penetra in profondità, raggiunge gli strati più profondi, nutre il derma, stimola la produzione di collagene e acido ialuronico. Quelle che vi ho elencato sono descrizioni che troviamo associate a creme e sieri, prodotti che contengono ingredienti come il collagene e l'acido ialuronico utilizzati nella skin care. Peccato che nessuna di queste affermazioni sia vera. Io sono Beatrice Mautino e in questi video parliamo di cosmetici e non solo visti con gli occhi della scienza. Di queste cose e di molte altre ne parlo nel mio nuovo libro, La scienza dei cosmetici, che da oggi potete preordinare. Esce tra un paio di settimane per Gribaudo e della stessa serie della scienza di Dario Bressanini, quindi se avete già visto il suo La scienza delle pulizie, beh insomma potete avere un'idea che sarà fatto. Contiene un sacco di schemi, di immagini, di rubriche, di consigli pratici per scegliere i prodotti migliori ma anche su come usarli una volta che li si è comprati. È bello spesso, contiene diversi capitoli, uno per ogni settore della cosmetica, dalla skin care al make up, ai prodotti per i bambini, quindi genitori in ascolto, parlo anche con voi, ai prodotti per la cura dei capelli oppure per la cura della barba. Insomma c'è veramente di tutto, ho cercato di fare un libro che fosse il più completo e pratico possibile. Vi metto il link per il preordine in descrizione e adesso però andiamo a cercare di rispondere alla domanda che ho lanciato prima. L'acido ialuronico è un molecolone, è un polimero costituito da acido glucuronico e N-aceti glucosammina. Appartiene alla famiglia dei glucosamminoglicani ed è una delle principali componenti del tessuto connettivo dove svolge delle funzioni molto importanti, lubrifica le articolazioni, ce l'abbiamo all'interno dell'occhio, nell'umor vitreo eccetera eccetera. La sua struttura molecolare, quindi questa lunga catena appunto di questo polimero, lo rende una spugna efficientissima. Pensate che un grammo di acido ialuronico può assorbire fino a 6 litri di acqua e quindi all'interno di una crema oppure di un siero, quindi un prodotto che noi mettiamo sulla pelle, la sua funzione è quella di un umettante, cioè di fatto fa davvero da spugna, assorbe l'acqua e la tiene lì e quindi la pelle risulta più idratata. Questa è la sua funzione, la svolge molto bene e non deve fare nient'altro. Negli anni però la sua funzione, almeno nella percezione e nella comunicazione dei cosmetici, è cambiata molto. Probabilmente per una sorta di analogia con i trattamenti di medicina estetica, dove i cosiddetti filler vengono fatti con l'acido ialuronico che in quel caso è vero che penetra in profondità, ma banalmente perché ce lo inietti con l'ago e quindi ci manca ancora che non penetri in profondità. Un cosmetico, quella cosa lì, non la può fare, però può venderci l'illusione di avere una sorta di effetto filler utilizzando un prodotto che contiene l'acido ialuronico che è lo stesso usato nei filler di medicina estetica. La verità è che questa molecola è troppo grande e non riesce a superare lo strato corneo, che è quello più esterno formato da cellule morte della nostra pelle. Non ci riesce neanche nelle sue versioni spezzettate, quelle che vengono promosse come a basso peso molecolare. Trovate in rete tantissimi video, spesso anche di medici, di medicina estetica, che vi propongono questo acido ialuronico a basso peso molecolare perché così riesce a penetrare in profondità. Balle non penetra in profondità ed è anche un bene che non penetri in profondità. Se ne stagli all'esterno al massimo riesce a penetrare un pochino all'interno dello strato corneo, ma non va giù nel derma, proprio non c'è verso. L'acido ialuronico, così come la stragrande maggioranza degli ingredienti cosmetici, svolge la sua funzione dall'esterno. E quindi, adesso voi mi farete una domanda, va bene, ma quando io spalmo una crema, poi io dopo un po' la vedo assorbirsi, no? Eh, se dici che non penetra, allora dove va? Non so se lo volete sapere davvero dove va, però adesso ci arriviamo e vi racconto però prima una storia. Qualche anno fa ho ricevuto una lettera da un mio lettore sulle scienze, che è la rivista sulla quale scrivo ogni mese ormai da molti anni, ho una rubrica che si chiama la ceretta di Ockham e questo lettore mi diceva che aveva fatto le analisi del sangue e aveva trovato il colesterolo un po' alto e quindi mi chiedeva se poteva essere a causa della crema idratante che si era spalmato per un certo periodo di tempo e che era andato a vedere conteneva appunto colesterolo. Io ho dovuto rispondergli che no, la crema non c'entrava niente, è molto probabile che c'entrassero, non so, i formaggi di cui magari andava a ghiotto e posso anche capirlo. Il colesterolo all'interno di una crema ha una funzione emolliente, cioè che cosa fa? Si va a inserire all'interno delle riserve di grasso dello strato corneo e le ammorbidisce. Magari ci prova anche a penetrare un po' di più però a un certo punto viene bloccato da che cosa? Dall'acqua, perché man mano che si va in profondità la quantità di acqua aumenta e il colesterolo e l'acqua non stanno bene insieme e quindi a un certo punto si ferma. Ma anche l'acqua viene fermata, pensate quando fate un bagno non vi trasformate in spugne, non mettete su chili e chili di acqua assorbita dalla vasca oppure dalla doccia. Perché? Proprio perché c'è lo strato corneo che ha una funzione idrorepellente, quindi impedisce all'acqua di penetrare all'interno della pelle e andare appunto ad aggiungersi all'acqua che abbiamo già nel nostro derma e in generale nel nostro organismo. Quelli che vi ho fatto sono solo due tra i tantissimi esempi che potrei farvi di come la pelle sia una barriera, una barriera molto efficace, non è totalmente impermeabile, alcune cose riescono a passare ma la stragrande maggioranza delle sostanze chimiche se ne sta fuori e questo è un bene perché ci protegge. E quindi quando noi ci spalmiamo una crema e la vediamo che si assorbe, in realtà noi non stiamo vedendo l'assorbimento da parte della pelle della crema. Stiamo vedendo un altro fenomeno che prende il nome di evaporazione o già la crema evapora. Una crema è fatta di tanti ingredienti diversi però il grosso di questi ingredienti è formato dai solventi, cioè formato da sostanze come l'acqua oppure come non so i siliconi quelli quelli appunto volatili che trasportano gli ingredienti dal barattolo alla nostra pelle, li depositano lì e poi quando hanno finito il loro lavoro di trasporto evaporano. Una crema leggera è una crema che ha una componente volatile più elevata quindi che evapora molto più velocemente rispetto a una crema pesante o nutriente che invece ha una componente volatile molto più bassa. In entrambi i casi quello che viene depositato, siano ingredienti funzionali oppure altri ingredienti come gli emollienti eccetera eccetera rimangono lì sulla pelle nello strato più esterno. A questo punto in genere ricevo una domanda quindi faccio finta che voi siete qua con me, io non sia a parlare da sola davanti a un telefono e la faccio, la condivido con voi. Ma quindi se niente può passare come fanno i medicinali, le pomate per esempio medicinali a funzionare? E qui arriviamo a uno dei primi errori logici che tendiamo a fare cioè il prendere la parte per il tutto. Se parliamo di cosmetici non parliamo di medicinali, sono due categorie distinte con regole diverse, normative, differenti eccetera. I medicinali come appunto le pomate devono trasportare dei principi attivi, questi principi attivi sono formulati, cioè sono costruiti da un punto di vista chimico con delle caratteristiche che gli permettono di superare la barriera della pelle ed andare a una certa profondità. Non è banalissimo, neanche in quel caso se conoscete delle persone che lavorano in ambito farmaceutico vi diranno che è un bel problema, insomma non è una cosa banalissima da fare però appunto si riesce a fare. Quindi la parte farmacologica della pomata riesce a superare, tutto il resto cioè la parte cosmetica di una pomata quindi tutti quegli ingredienti che servono a trasportare il principio attivo sulla pelle e poi penetrare e si comportano come gli ingredienti cosmetici, cioè in parte rimangono lì, hanno funzione magari appunto emolliente e in parte evaporano anche loro. E qui arrivo all'altra domanda che mi viene sempre fatta e che quindi condivido anche in questo caso con voi. Ma quindi i cosmetici non servono? I cosmetici servono ma non devono penetrare per riuscire a fare il loro lavoro. Lo fanno benissimo dall'esterno, l'idea che un cosmetico per riuscire a funzionare debba penetrare, debba essere assorbito, debba mandare i suoi ingredienti negli strati più profondi del derma è un'idea sbagliata, è veramente il male fatto a idea, è frutto di un gioco al rialzo che non fa bene a nessuno, non fa bene a noi che magari ci caschiamo, ma non fa bene neanche alle aziende che non sanno più che cosa inventarsi, cioè che cosa si devono inventare dopo averci detto che gli ingredienti penetrano in profondità, magari che vanno a modificare il nostro DNA? Ah, forse l'hanno già anche fatto. Vabbè, torniamo a noi, vi faccio una domanda per chiudere. È davvero così importante che un cosmetico sia assorbito? Cioè se fa il suo lavoro rimanendo all'esterno non va bene lo stesso? Secondo me sì, e si vivrebbe tutti un po' meglio. Però lascio la domanda a voi, scrivetemi la risposta insieme a commenti, suggerimenti, tutto quello che volete, qua sotto vi lascio le fonti nella descrizione e come sempre se il video vi è piaciuto condividetelo con le persone che vi stanno intorno. Buon assorbimento a tutti, ciao!